Ancora una predazione feroce ad Asiago. Una decina di lupi sono entrati in una baracca nella tenuta di Ernesto Rigoni in via Villa Rossi. Poco prima dell'alba, infatti, andando verso la zona dove l'uomo alleva altri animali, si è accorto che mancavano all'appello tre asini e stavolta la predazione ha connotati diversi rispetto alle altre subite nell'ultimo anno da Rigoni. È lui stesso a raccontarci come sono andate le cose. Sono entrati una decina degli lupi, dieci o undici, dicono che sono. Questa notte, non so, dopo le due e mezza, tre, sono andati via stamattina all'alba e hanno ucciso tre asini che avevo dentro in un box, dentro in una baracca chiusa, ma siccome sono talmente spaventati che hanno buttato giù la serratura, diciamo, il catenaccio e sono scappati fuori e dopo li ha fatti fuori. Sono tre completamente mangiati e uno ferito. Ne avevo una quindicina, me ne sono rimasti due, ecco, due più una giovane. Dunque, stavolta i lupi si sono spinti oltre, sono entrati in un box chiuso e approfittando della paura degli asini hanno colpito. Non voglio neanche più sprecare fiato perché secondo me sono superfluo perché la gente che conta che è in politica se ne fregano tutti quanti. Qua vedo tutto lasciano passare, tanto succede agli altri, ma chi dovrebbe essere interessato a risolvere il problema vedo che non lo risolve in su mano.